Inaugurata l'area del cantiere per il raddoppio del binario ferroviario dell'interporto d'Abruzzo a Manopello, finanziato con 10 milioni di euro dai fondi PNRR, il potenziamento della rete logistica e dell'hub interportuale di Manopello di fatto prevede un intervento di completamento dell'infrastruttura dell'area industriale che vede la ZES in veste di soggetto attuatore. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, sottolinea come questa opera molto importante sia il salto di qualità per l'interporto di Manopello raddoppiando la capacità di carico e movimentazione di merci, nello specifico l'adeguamento al modulo europeo di lunghezza treno di 750 metri, presenti anche il commissario ZES Mauro Miccio e la ditta Strever che ha vinto l'appalto dei lavori che dovrebbero concludersi nel marzo 2025.